Precari centro impiego altra tegola sulla provincia dopo il risarcimento a 26 ex lavoratori il Tarmolise lo ha riconosciuto anche per altre tre persone escluse dalla selezione perché residenti fuori regione. Battista alla scuola a Mascione entro il prossimo anno il sindaco di Campobasso lo ha annunciato in conferenza stampa davanti a quello che resta della struttura il nuovo edificio ha detto sarà antisismico e realizzato con tecniche innovative incontro sulla costituzione con Filippo Patroni Griffi a Isernia è intervenuto il presidente del Consiglio di Stato in un evento organizzato dall'ufficio scolastico regionale se rifiutiamo il diverso ci isoliamo ha detto torniamo indietro sul regionalismo differenziato non esistono bandiere bisogna essere compatti ha spiegato il governatore Toma dopo il voto trasversale in consiglio regionale il tema così come impostato ha continuato non può arrivare in Parlamento basket di A2 la molisana alla spezia la capolista dopo il primo K.O. interno con il Palermo alla ricerca del riscatto contro le seconde della classe nuoto nel fine settimana in vasca per il trofeo M2 a Campodipietra Buon pomeriggio benvenuti al nostro Tg delle 14 precari dei centri per l'impiego ancora sotto i riflettori dopo risarcimento a 26 ex lavoratori deciso dal giudice del lavoro per reiterazione anomala dei contratti a tempo determinato il tar del Molise ha riconosciuto il risarcimento anche per tre persone escluse dalla selezione perché residenti fuori regione sentiamo Giovanni Minicozzi L'ennesima tegola si abbatte sulle casse già disastrate della provincia di Campobasso e della regione il tar del Molise infatti con sentenza numero 46 del 2019 ha dato ragione a tre persone residenti in Abruzzo che avevano prodotto domanda per partecipare al concorso indetto dal dirigente della provincia per selezionare 20 unità poi diventate 26 da utilizzare nei centri per l'impiego nel bando era espressamente indicato l'obbligo di residenza in uno dei comuni del Molise per poter partecipare al concorso e dunque le tre persone residenti in Abruzzo vennero escluse i fatti risalgono ad alcuni anni addietro e precisamente al 12 maggio 2012 quando l'assessore al lavoro della provincia era Salvatore Micone poi diventato consigliere regionale del 2013 e l'allora presidente Paolo Frattura gli affidò la delega per la gestione dei centri per l'impiego passati nel frattempo dalle province alla regione. I ricorrenti con ricorsi separati impugnarono davanti al presidente della Repubblica e al tar il bando di avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di istruttore direttivo categoria D1. Il Tar del Molise con una prima sentenza aveva dato ragione alla provincia ma successivamente il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la procedura concorsuale proprio perché escludeva i residenti fuori regione. A seguire il Tar del Molise ha accolto le istanze risarcitorie fondando il proprio ragionamento sulla circostanza del requisito di partecipazione alla selezione collegato alla residenza censurato perché contrario alla legge e ai principi costituzionali. La sentenza è rilevante ai fini della tutela dei lavoratori e spiega il nesso di casualità tra la condotta antigiuridica colposa e dolosa e il procurato pregiudizio degli aspiranti che hanno subito l'esclusione dal bando per via della mancanza del requisito di residenza. Inoltre considerata la circostanza che i concorrenti erano solo 95 di cui 31 dichiarati non idoni e 15 ritirati o assenti dalla prova. La determinazione del risarcimento scrivono i giudici del Tar deve essere commisurata al grado di probabilità che il risultato favorevole avrebbe potuto essere conseguito. Peraltro la notizia è finita sul Sole 24 Ore, su altri giornali e sulla rivista specializzata denominata Lente Pubblica. Al di là del danno erariale e del risarcimento, resta da capire come sia stato possibile che un dirigente abbia proposto un bando che non rispetta né la legge in vigore né i fondamentali principi costituzionali. Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha convocato a Roma le regioni e i presidenti delle autorità portuali del Mezzogiorno per costruire una strategia comune riguardo le ZES, le zone economiche speciali. Ho stabilito di raccogliere le principali istanze, ha detto per avere un quadro omogeneo e condiviso degli interventi migliorativi da realizzare nella cabina di regia che convocherò prossimamente. Scopo della cabina sarà anche quello di promuovere l'omogeneità di alcune tipologie di interventi come ad esempio i requisiti per l'accesso delle imprese ad agevolazioni incentivi. Ciascun territorio, ha continuato Barbara Lezzi, può investire nelle proprie specificità e valorizzare le singole caratteristiche. Sono convinta che la concorrenza debba essere rivolta al mercato estero o non a quello interno. Da soli non si va lontano per crescere davvero. Servono condivisione e unità di intenti. Le ZES riguardano anche il Molise. A Campobasso, adesso dove è mattinata, il sindaco Antonio Battista ha incontrato i giornalisti davanti a quello che rimane della scuola di Contrada-Mascione, quasi completamente demolita. Al suo posto tra circa un anno, ha detto Battista, un nuovo edificio realizzato con tecniche innovative e con criteri ovviamente antisismici. Sentiamo Anna Maria di Matteo. Nella vecchia scuola di Contrada-Mascione non resta che un cumulo di macerie e l'ultima porzione di fabbricato. Vanno avanti i lavori di demolizione della struttura. A suo posto, tra circa un anno, sorgerà il nuovo edificio scolastico realizzato con tecniche innovative e antisismiche. Il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, insieme ad alcuni assessori della sua giunta, in mattinata ha tenuto una conferenza stampa davanti ai cancelli del cantiere. Con orgoglio ha annunciato l'avvio dei lavori che consentiranno alla popolosa Contrada di avere presto una nuova scuola. È un evento e un avvenimento anche questo, con il rimpianto di quanti hanno frequentato e hanno trascorso una parte dell'infanzia qui, ma anche con la loro felicità perché verrà costruito un edificio nuovo a norma, adeguato, insomma con la piena soddisfazione dell'amministrazione, soprattutto della città. L'investimento del comune di Campobasso, soldi ben spesi perché quando si parla di scuole, di istruzioni, di nuovi edifici non ci sono soltanto motivi buoni e sono argomenti che vengono capiti da tutti quanti. Il sindaco sta per concludersi la consigliatura, un bilancio sul tema della sicurezza degli edifici scolastici. Allora è assolutamente positivo come bilancio, pure spinti da una opinione pubblica che ha fatto molte pressioni siamo stati attenti e sensibili ai richiami. Assessore ci siamo insomma? Sì, io dico anche non tutti i mali vengono per nuocere, la scuola era stata chiusa perché non era sicura, oggi siamo ad iniziare i lavori di ricostruzione, un annetto massimo è sarà ricostruita, abbiamo investito 1.200.000 euro, sono 5 classi, quindi una scuola adeguata per questa parte della città così popolosa e così importante. Ovviamente bisogna dare subito iniziative alle altre scuole della città, abbiamo espritato il concorso di idea, partiremo con le progettazioni esecutive sia per Crispi, sia per la zona del CEP e sia per l'area di Petrone, la scuola di Petrone e quindi proseguiremo in questa direzione. Abbiamo investito molto sulle scuole, mi sembra che gli impregni presi in questi anni con la popolazione li abbiamo tutti mantenuti e quindi noi siamo impegnati per costruire le scuole sicure in questa città e sono certo che a distanza di qualche anno avremo tutte le scuole sicure in questa città. La scuola di Via D'Amato non se ne parla più, che fine ha fatto, che fine farà? La scuola di Via D'Amato sarà venduta, noi abbiamo messo nel piano di vendita e di dismissione di quell'area, i soldi che ricaveremo saranno investiti sull'area di Via Crispi, quindi là ci sarà un polo scolastico, come ci sarà un polo a Vazieri, come ci sarà un polo nella zona del CEP. Presidente, insomma una giornata importante oggi? Sì, è importante e tra l'altro insomma ripaga un po' di tanti sacrifici che in questi anni hanno dovuto anche sopportare sia le famiglie, i bambini, però è un ringraziamento va all'amministrazione comunale tutta perché hanno promesso, ma hanno mantenuto ciò che hanno promesso e quindi ci sarà la realizzazione di questa nuova scuola e sarà naturalmente presidio culturale all'interno di un territorio bello e anche vasto. L'Associazione Politico-Culturale Campobasso del Futuro ha presentato il movimento civico nato per dare il proprio contributo alla città di Campobasso in vista delle imminenti elezioni amministrative, ha detto il presidente Angelo Santoro in appoggio al centrodestra e per un candidato sindaco di centrodestra motivato e esperto che venga fuori dal tavolo, ha detto sempre Santoro, Campobasso del Futuro ha presentato anche il logo svelando i programmi e gli intenti con cui il movimento e i suoi candidati prenderanno parte alla competizione elettorale per il rinnovo appunto del Consiglio Comunale di Campobasso. Andiamo ora all'auditorium di Isernia dove l'ufficio scolastico regionale ha organizzato un incontro sulla nostra Costituzione, è intervenuto Filippo Patroni Griffi che è il presidente del Consiglio di Stato, la Costituzione ha detto deve guidarci, se ci isoliamo rifiutiamo il diverso e abbiamo paura, torniamo indietro. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. È stato accolto dal grande entusiasmo dei ragazzi il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, intervenuto ai Serni al seminario formativo promosso dall'ufficio scolastico regionale dedicato alla nostra Costituzione. Un tema sempre attuale, a maggior ragione perché quest'anno durante il colloquio previsto per gli esami di Stato agli studenti saranno poste anche domande sulla cittadinanza e per l'appunto sulla Costituzione. In ogni caso è sempre utile ricordare alle nuove generazioni l'importanza della legge fondamentale dello Stato ricevuta in eredità dai padri fondatori dell'Italia repubblicana. La Costituzione è qualcosa che fonda la comunità e quindi è importante che i ragazzi l'affrontino fin da quando sono ragazzi e quindi la scuola è fondamentale in questo. Tra i compiti della scuola, ha detto il dirigente dell'ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini, c'è quello di far maturare una coscienza civica e quel senso dello Stato che possa far comprendere che esistono la libertà e i diritti ma anche i doveri e le responsabilità di ciascuno di noi. La Costituzione ha concluso è importante per superare l'individualismo in luogo del bene comune. A tracciare un profilo del presidente Patroni Griffi ci ha pensato il moderatore dell'incontro, il procuratore capo di Serni a Carlo Fucci. Dopo la laurea è subito entrato in magistratura ricoprendo ruoli importanti e di responsabilità anche in altri ambiti e anche all'estero. È stato anche ministro del governo Monti e sottosegretario con Letta. Risultati che non si raggiungono a caso, ha sottolineato Fucci rivolgendosi ai ragazzi, ma sono il frutto dell'impegno. Ma questo impegno, ha aggiunto Patroni Griffi, deve cominciare già tra i banchi di scuola. La comunità scolastica accanto alla famiglia è la prima comunità, in un certo senso più della famiglia, perché noi nella famiglia ci formiamo in un nucleo molto ristretto, nella scuola ci formiamo insieme con gli altri. È la prima comunità vera in cui noi ci troviamo e ci troviamo nell'età, nel periodo più importante della nostra formazione. Poi, introducendo il tema, ha preso in prestito le parole di Calamandrei, uno dei padri costituenti. La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non deve essere iope. Allora cerchiamo un attimo di capire quanto lontano la nostra Costituzione ha saputo guardare oltre noi e oltre non solo in senso temporale ma anche in senso fisico, cioè oltre l'Italia, oltre il territorio dove noi viviamo. La Costituzione ha detto ancora deve guidarci. Oggi esistono emarginazione e ingiustizia e se abbiamo paura torniamo indietro. Se le comunità si isolano e rifiutano il diverso, si chiudono e diventano aggressive. Ma se voi non avrete gli stessi atteggiamenti degli adulti, ha concluso Patroni Griffi, rivolgendosi ai ragazzi, i vostri diritti ve li sarete guadagnati senza che alcuno ve li avrà passati. La consigliera regionale Paola Matteo del gruppo Orgoglio Molise, capogruppo di Orgoglio Molise, ha incontrato gli esperti che la affiancheranno nella stesura definitiva della proposta di legge su bullismo e cyberbullismo per contrastare bullismo e cyberbullismo. Sono la criminologa investigativa Antonella Cortese, la psicoterapeuta e criminologa Virginia Ciaravolo, il digital forensic expert Sandro Salvati, responsabili del progetto nazionale educazione digitale per contrastare il bullismo e il cyberbullismo. All'incontro era presente anche Giuditta Lembo. Voglio una legge, ha detto Matteo, che intervenga soprattutto sulla prevenzione e sull'informazione attraverso il corretto e consapevole utilizzo da parte dei giovani, dello smartphone e dei derivati. Con il supporto di esperti, la futura legge regionale risponderà appieno a queste esigenze, ha concluso Paola Matteo. Sul regionalismo differenziato non esistono bandiere, siamo di fronte a un tema che interessa chiunque viva nelle nostre regioni indipendentemente dall'appartenenza politica e quanto dichiarato dal Presidente della Regione Toma. Sentiamo Pasquale Di Bello. Non si abbassa il livello di attenzione delle istituzioni sul tema del regionalismo differenziato, anzi al contrario, più passano i giorni e più si susseguono gli interventi. A far sentire oggi la propria voce è stato il Presidente della Regione Molise, Donato Toma. Dopo aver incassato il voto di tutto il Consiglio regionale, con la sola eccezione della leghista romagnuolo, Toma ha chiarito senza tanti giri di parole che così com'è il regionalismo proposto da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna non può e non deve passare. In Parlamento non ci deve nemmeno arrivare, ha scritto in una sua nota, se non dopo che la problematica sia stata affrontata, sviscerata e dibattuta in tutti i suoi aspetti. Il cardine del ragionamento fatto dal Governatore è che i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali vengano garantiti in equal misura e forma su tutto il territorio nazionale. Il ragionamento che fa Toma mira ad evitare una frattura, quella tra regioni ricche e regioni povere, rapporto che invece deve essere improntato alla redistribuzione interregionale delle risorse. Per una piccola regione come il Molise, dice Toma, non si può prescindere dal presupposto che vengano assicurate azioni improntate ai principi costituzionali di solidarietà economica e sociale. Dignità ed eguaglianza sono questi i punti a cui Toma farà riferimento. In sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in sede di Conferenza delle Regioni, il Governatore in tal senso dispone di un ampio e trasversale mandato a lui concesso dal Consiglio regionale. Per la maturità dimostrata da quest'ultimo, Toma ha avuto parole di elogio. Sul tema del regionalismo differenziato ha detto non esistono bandiere, siamo di fronte a un tema che interessa chiunque viva nelle nostre regioni, indipendentemente dall'appartenenza politica. Manifestazione di protesta ieri al Tribunale di Isernia dei dipendenti della Eco Green di Campobasso da mesi senza stipendio. Hanno chiesto ai giudici di pronunciarsi su due pratiche di pignoramento relative a un contenzioso con il Consorzio Industriale di Pozzilli che di fatto bloccano il pagamento dei loro stipendi e tutti i conti della società. Da mesi aspettiamo risposte dal giudice, ha spiegato Enrico Perretta, titolare dell'Eco Green, e senza una risposta non possiamo pagare gli stipendi a circa 180 lavoratori. Un vero e proprio dramma per queste famiglie. I dipendenti e la Eco Green andranno avanti con la loro protesta fino a quando non otterranno risposte concrete. Allarme e inquinamento torrente Rava. Da più parti chiesto un intervento per risolvere una situazione che allarma la gente. Sentiamo il servizio di Enzo Di Gaetano. Di nuovo allarme ambientale lungo il torrente Rava. Si è infatti ripresentato il fenomeno della schiuma che galleggia sull'acqua. I residenti hanno segnalato anche odori, nause e abbondi. Sul posto, allertati da alcuni residenti della zona, si sono recati anche i carabinieri forestali di Venafro per gli accertamenti del caso. Presente per i controlli anche il personale dell'Arpa Molise, che ha prelevato campioni dell'acqua per analizzarli in laboratorio e comprendere da cosa derivi il fenomeno. Nei mesi scorsi è stato disposto il sequestro del depuratore del nucleo industriale di Pozzilli. Nonostante ciò, lungo il torrente Rava, di tanto in tanto continua a formarsi della schiuma. Di recente la Procura di Sernia ha disposto anche il prelievo di terreno dal letto del corso d'acqua. Per capire quali sostanze siano state sversate, occorrerà però attendere ancora qualche settimana. E sull'ennesimo inquinamento del torrente Rava è intervenuto anche il consigliere regionale di 5 Stelle, Vittorio Nola, che ha sollecitato un intervento. Ancora una volta si è verificato il fenomeno della schiuma bianca e maleodorante nel torrente Rava e l'Arpa Molise ha effettuato nuovamente i controlli, ha dichiarato Nola. Attendiamo ora dall'Arpa e dalle altre istituzioni che stanno vigilando delle risposte in tempi brevi. Perché questo silenzio non è più accettabile e i cittadini chiedono tutele e rassicurazioni. Non abbiamo più intenzione di attendere. Sulla figura di padre Bonaventura De Filippis, il primo cappellano inviato in Antartide da Papa Francesco è intervenuta la consigliera della Lega Ida Romagnuolo che ha proposto l'intitolazione di una strada nel comune di Campobasso e la realizzazione di una statua nella comune di Roccamandolfi, la quale padre De Filippis proveniva a ricordare. Il sacerdote in questi giorni è stato lo stesso Papa Francesco che ha anche inviato una lettera all'arcivescovo di Campobasso Giancarlo Bregantini per rievocarne la figura. Contatti anche dagli Stati Uniti per pacchetti turistici in Molise grazie alla partecipazione alla Borsa Internazionale di Milano, dello stand curato dall'azienda di soggiorno di Termoli. Numerose le attività in cantiere in vista della prossima estate per continuare a promuovere il territorio, tra cui un press tour di giornalisti di testate nazionali. Fabrizio Occhionero. Risultati molto positivi e un'esperienza che dà impulso alla promozione del territorio coinvolgendo gli operatori in una rete virtuosa e aperta ad accogliere nuovi flussi turistici. Il bilancio presentato dall'azienda di soggiorno di Termoli che ha curato lo stand del Molise alla BIT di Milano rappresenta un'opportunità di confronto per delineare strategie di progettazione e sviluppo integrando anche le scuole come l'Istituto Commerciale Boccardi. Gli studenti devono anche avere l'esempio concreto di come si porta avanti un'iniziativa o un progetto. C'è la fase progettuale, la fase dell'implementazione del progetto, l'analisi di che cosa è successo col progetto presentato e poi ovviamente siccome è un discorso commerciale ed economico dobbiamo aspettare i risultati economici delle attività fatte. Per cui abbiamo un fine prevalentemente didattico nel venire qui all'Istituto Commerciale che ha le ultime classi con finalità turistiche. 43.000 visitatori complessivi, oltre 700.000 contatti sui social e uno stand singolare ed ecosostenibile. Più che raddoppiati venditori di proposte e pacchetti turistici, una cinquantina le imprese molisane, 400 i compratori con diversi contatti dagli Stati Uniti e da altri paesi europei e non solo, numeri ed esperienze presentate per rinnovare un impegno condiviso anche in vista della prossima estate delle numerose iniziative in cantiere. Noi abbiamo suscitato un interesse enorme nella stampa nazionale, nelle massimedia, nelle telecomunicazioni e quant'altro. Tant'è che già il 28 di marzo verrà un gruppo di giornalisti delle Stati Uniti a farsi un giro nel Molise, quello che si chiama Press Tour, in maniera tale che si inizia anche a portare avanti un discorso nel territorio. È chiaro che tutto questo deve portare anche alla crescita delle strutture dei servizi. Pesca sportiva, l'assessore regionale Nicola Cavaliere ha scritto alle associazioni dialogo e trasparenza nell'interesse di tutti, ha detto, è stato inviato a tutte le associazioni del settore il piano di immissione delle trotefario effettuato a dicembre per garantire trasparenza e coinvolgere fino in fondo gli appassionati presenti sul territorio regionale. Intendo anche in questo campo, ha continuato Cavaliere, instaurare un proficuo rapporto di collaborazione nell'interesse generale con l'obiettivo di creare una perfetta sinergia tra la tutela del patrimonio ambientale e la valorizzazione dell'attività di pesca sportiva in Molise. Parte a Larino un innovativo progetto rivolto a bambini e ragazzi con disturbo autistico. L'iniziativa promossa dal Centro Sociale Il Melograno punta a consolidare una rete di servizio territoriale. Sentiamo ancora Fabrizio Eccionero. Un percorso innovativo a servizio del territorio dell'ambito sociale di Larino che si inserisce in una strategia condivisa di azioni e di risposte alle famiglie. Il progetto Autismo Accoglienza Terapia Specialistica Intervento di Rete è stato promosso dal Centro Sociale Il Melograno di Larino e finanziato da un bando regionale. Obiettivo favorire l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita delle persone con disturbo autistico dando priorità all'età dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso delle attività e delle azioni specialistiche sperimentali che si propongono anche di colmare la mancanza di servizi altamente specializzati sul territorio di riferimento. Una lunga esperienza ormai più che ventennale nei confronti della disabilità ci ha portato nel tempo secondo le nostre abitudini consolidate a leggere il territorio dove abbiamo scoperto la presenza di un campo assolutamente scoperto qual è quello dei disturbi legati allo spettro dell'autismo. Questa è una partenza, è una sperimentazione alla quale deve seguire e questo sia a livello comunale che a livello di ambito sembra essere una direzione da voler perseguire deve portare ad avere un punto fermo qui su Larino. Nei locali del centro sociale è stata costituita un'equipe di operatori specializzati in particolare sul metodo ABBA incluso nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità è ritenuto efficace per ridurre i comportamenti disfunzionali e promuoverne altri appropriati soprattutto per la comunicazione e l'interazione sociale. L'intervento gratuito condiviso con la coordinatrice d'ambito sociale Eloisa Arcano, il comune e diverse realtà sarà associato a momenti di affiancamento alle famiglie, laboratori, attività ludico-sportive come la danza e la pet therapy e altri servizi. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Larino, Pino Puchetti, l'assessore alle politiche sociali Alice Vitiello e il presidente del Consiglio Comunale Antonio Vesce che ha evidenziato l'integrazione con la scuola alle realtà del territorio rimarcando il senso di responsabilità delle famiglie. È un progetto che grazie al centro sociale di Melograno che è sempre attenta a queste problematiche, a progetti legati al sociale, alle famiglie, alle persone e ai miei ambienti ha come obiettivo quello di offrire un servizio specifico. Le istituzioni devono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di chi ha bisogno e soprattutto favorire l'inclusione sociale. Noi come amministrazione siamo impegnati in questo senso, siamo impegnati a rafforzare la rete dell'inclusione e questo progetto ne è un esempio perché coinvolge, mette in sinergia istituzioni, volontari e famiglie. Domani cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019. Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, sarà all'Università del Molise alle 10.30 nell'Aula Magna di Ateneo. La sua lezione sarà sul tema il popolo, lezione inauguralis, il popolo e i suoi rappresentanti. Parliamo adesso di uno scrittore felice del vecchio che scrisse negli anni 50 del secolo scorso un romanzo di successo per la Einaudi, La Chiesa di Canneto. Fu il suo unico scritto fino al 2000, un autore che fece parte di quell'epoca d'oro per diverse penne molisane, tra cui c'erano anche Iovine e Rimanelli. Uno scrittore che scelse il silenzio dopo il successo e che ha compiuto da poco 90 anni, la sua storia umana e di scrittore è stata approfondita da Giovanni Mascia. Sentiamo. Gli anni 50 del secolo scorso hanno rappresentato un periodo d'oro, possiamo dire irripetibile, per più di uno scrittore molisano. Penne intellettuali che si fecero conoscere e apprezzare fuori dai confini regionali, con opere di spessore, respiro e grande tenuta narrativa. Una stagione inaugurata da Francesco Iovine con Le Terre del Sacramento, pubblicato per Einaudi e rinvigorita da Giosea Rimanelli con Tiro al Piccione e Luigi Incoronato, entrambi editi da Mondadori, senza trascurare la poesia di Eugenio Cirese, benedetta da quel genio di Pier Paolo Pasolini. Tra questi fini scrittori spiccò anche un giovane talento felice del vecchio con un libro, un romanzo potente e lirico che è rimasto a lungo il suo unico scritto noto, La Chiesa di Canneto. Iniziò a dare forma a questo racconto a Campobasso appena 25enne nel 1954, fu pubblicato poi da Einaudi tre anni dopo e ottenne il premio Viareggio Opera Prima, sempre nel 1957. Del vecchio aveva solo 28 anni, un'opera lirica ed evocativa in cui svela l'immagine della sua rocca vivara, della sua gente, i luoghi, i dolori e le speranze viste non da un occhio esterno, da un emigrato, ma dall'interno. Narra la memoria, anche storica e sociale, del luogo dove visse, cresciuto dallo zio Duilio Lemme, parroco di Roccavivara e abate di Canneto. Lui, figlio di contadini, nato nella vicina Castiglione Messer Marino, si avvalse degli insegnamenti di Don Bertrando Gianico, che formò tante generazioni. Fu studente, poverissimo, al liceo classico di Campobasso, poi brillante universitario alla normale di Pisa, dove si laureò in storia e filosofia, pupillo dello storico Cantimori. Tornò nel 1951 in Molise, rinunciando alla carriera accademica per sdebitarsi con la provincia di Campobasso che lo aveva mantenuto agli studi in Toscana e per amore dei contadini impegnati nella lotta per la terra contro il latifondo, divenne attivista politico per il Partito Comunista. Dal Molise, dopo il successo letterario, si trasferì a Milano, dove lavorò per la Mondadori. Il suo romanzo fu ristampato da Enzo Nocera nel 1997. Il 19 febbraio, Felice del Vecchio, ha compiuto 90 anni, è nato nel 1929. La sua vicenda letteraria e umana è stata portata alla luce da Giovanni Mascia, storico e attento cultore della letteratura, in particolare di quella molisana, che per il compleanno ha dedicato allo scrittore un lungo articolo biografico sul quotidiano del Molise. Il silenzio ha suggellato una vicenda umana singolare, ha detto Mascia, almeno fino alle soglie del 2000, quando ormai Anziano del Vecchio è tornato in libreria con un racconto lungo, il nido di pietra, che svela che cosa ha portato quel ragazzo a lasciare la sua terra per emigrare al nord. Comunicazione di servizio del Rettore della Chiesa dei Cappuccini di Campobasso, padre Luigi Chiaro Lanza, il quale ha sottolineato che non è stato autorizzato alcuno a girare per la questua, per la Madonna dei Monti. Questua che ha precisato sarà effettuata invece ad aprile da personale della Pia Unione, quindi ha sottolineato padre Chiaro Lanza, non date offerte ad alcuno al momento, poiché non è autorizzato. E prima di salutarci vi mostriamo le foto di un coniglio nano che cerca casa, è una femmina di circa otto mesi, ecco vedete la foto, naturalmente non è in vendita, ma si regala a chi volesse adottarla, può contattare come sempre la nostra redazione. È tutto, termina qui il TG delle 14, dopo la sigla le previsioni meteo, poi la linea ai colleghi dello sport, noi ci rivediamo intorno alle 15 per il TG Flash, buon pomeriggio.